Già abbiamo sentito in questa seconda elezione un sacco di proposte, alcune delle quali insomma io ho pensato, ah perché non è venuta in mente a me? Dal filone comico c'era una proposta di Candid divertente e un altro gruppo invece ha proposto un'inchiesta sul territorio che ha a che fare con i beni delle chiese trafugati insomma mi sembra che ci siano molti segnali promettenti Sono molto bravi, sono molto contenti perché hanno tirato fuori delle idee buone su cui lavorare e che sono effettivamente delle idee mature cioè sarebbero ipoteticamente dei servizi che ben fatti potrebbero anche andare insomma essere visti dal grande pubblico Sì adesso siamo all'inizio del percorso però la speranza di vedere davvero dei servizi da Iena confezionati e pronti per essere proposti Non c'è il servizio ideale, cioè dipende dalle città immagino che Napoli come ogni città insomma abbia i suoi problemi i suoi lati oscuri, le sue bellezze quindi insomma come ogni città sicuramente ha 3000 servizi e cose da scoprire Grazie! 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 Grazie a tutti